Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo giusto a mano tra senza sei e oggi abbiamo due postine all'excel, anche se vi sembrano poche, però due postine in più, non vedete. Per non vedere, non devo guardare assolutamente perché non so se il lego nell'altro modo, quindi non credo di un po' di nonno. Mertens, del Napoli, Davide Calabria, del Milan, Mancosu, del Lecce, Catano Castrovilli, della Fiorentina, Cerpitagli, del Cagliari e Bentancur Diamante. Ma ci trovo un top player, tipo che cosa, veramente mi ha capito. Ah guarda, Flocca di e Petani che ho trovato altra volta. Ah, Cerchio Flocca! Cerchio Flocca lì, della spalla. Mi ho completato la Brescia, del Sassuola, Biano e Locatelli, Cigarini del Cagliari, Torregrossa del Brescia, mi ho spiegato questo. Sassuola, Flocca di e Petani e Edgall, buono. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, anche perché erano le postine. Per questo video vi sia piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non proprio i miei altri video. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!